Siete pronti ragazzi, ragazze, ragazzo? Benvenuti in una nuovissima puntata di Spelete with me, Cristiano Cervigni. Oggi torniamo a parlare di Ilari Blasi. E non perché sta per uscire il suo nuovo libro che io ovviamente comprerò, che io ovviamente leggerò, che io ovviamente riassumerò in qualche video e magari in qualche podcast nel caso in cui mi seguite tramite appunto podcast, ma torniamo a parlare di tutta la faccenda Ilari Blasi, Francesco Totti e amanti semplicemente perché è appena uscita un'intervista al presunto ormai rivelato ragazzo del caffè di cui Ilari Blasi ha tanto parlato nel suo documentario Unica. Allora, noi abbiamo affrontato abbondantemente con un super video che vi è piaciuto tantissimo, anche l'argomento documentario di Ilari Blasi. Vi lascio comunque, se state guardando il video su YouTube, il link qua sotto nell'info box così potete andarlo a recuperare. Nel caso in cui ascoltate il podcast provvederò prestissimo a mettervi anche quell'episodio, non vi preoccupate. Fatto sta che noi avevamo un po' indagato, no? Su questo ragazzo del caffè e tra i vari nomi che vi avevo fatto e di cui avevamo parlato c'era anche un certo Cristiano Iovino. Ed è proprio lui che ha rilasciato un'intervista esclusiva al messaggero dicendo e ammettendo a tutta Italia che si trattava proprio di lui. Lui era il ragazzo del caffè di Ilari Blasi e la sua unica verità sarebbe totalmente diversa da quella raccontata dalla stessa Ilari. Quindi correte a prendere subitissimo il vostro drink o snack preferito. Mi raccomando mettetevi comodi, se guardate il video mettete mi piace, iscrivetevi al mio canale e ne varrà la pena perché oggi usciranno delle bombe assurde. Sorso iniziale? Ah! E direi di iniziare dall'inizio perché è vero che noi ormai siamo delle vecchie ciabattone di periferia e quindi voi sapete tutto grazie a me su questa storia. Ma nel caso in cui qualcuno fosse incappato in questo video o in questo episodio podcast così per caso e non sapesse di chi stiamo parlando i protagonisti sono Ilari Blasi e Francesco Totti. Erano la coppia proprio dei puponi italiani, si sono sposati, hanno avuto una storia idilliaca almeno davanti alle telecamere. Fatto sta che poi adesso si sono separati e provvederanno al divorzio per via, a detta di Ilari, soprattutto della scoperta delle corna che lei aveva in quanto poi Francesco Totti si è innamorato di Noemi Bocchi, si è fatto sgamare e adesso ha una relazione con lei. Ok? Ma nel documentario unica di Ilari Blasi praticamente il tutto, l'inclinazione del matrimonio tra Ilari e il pupone sarebbe iniziata per colpa di Francesco Totti che leggendo dei messaggi sul telefono di Ilari avrebbe scoperto che Ilari Blasi era andata a prendere un caffè di nascosto con un ragazzo. E a domanda diretta di Francesco se lei lo conosceva e se lei lo aveva mai incontrato, lei risponde assolutissimamente no mentendogli e sapendo anche di mentire. Nel suo documentario però non fa mai nomi, quindi noi non sappiamo l'identità vera di questo ragazzo del caffè e infatti lo abbiamo chiamato tutti il ragazzo del caffè. Fatto sta che dopo l'uscita del documentario ovviamente i vari giornalisti hanno iniziato ad indagare e il nome più propenso per essere il ragazzo del caffè sarebbe quello di Cristiano Iovino o Iovino, scusate, io non lo conosco. Fatto sta. Chi è questo Cristiano? Non sono io, anche se si chiama come me, ahimè, purtroppo non sono io raga. Al massimo potevo andare col pupone per via dei miei gusti. Comunque Cristiano Iovino sarebbe un personal trainer, imprenditore e sarebbe anche molto conosciuto nella zona di Roma, soprattutto a Roma Nord. Infatti leggo che sarebbe anche un tifosissimo della Lazio e sarebbe lui il ragazzo del caffè incontrato da Ilari Blasi. Ora, io, se fossi stato il pupone, mi sarei incazzé anch'io scoprendo magari del caffè di nascosto con questo ragazzo da parte di mia moglie, ma non tanto per l'eventuale corna, ma perché boia. Io sono vent'anni che gioco alla Roma, t'ho fatto una capatanta così e te mi vai a prendere il caffè con uno che è della Lazio, non stanno in cielo né in terra. Ora, io non faccio parte del Twitter calcio e non faccio parte di quelli super fissati del calcio, ma Maremma Maiala, cioè, anch'io riesco ad arrivare a queste cose. Non puoi! Praticamente l'ex capitano della Roma è stato tradito dalla moglie con un super tifoso della sua squadra arcinemica. Ah! Chiederei danni io! Vabbè, fatto sta, ragazze e ragazzi, perché oggi andiamo a parlare di questo cristiano? Perché, come vi ho già detto, Ilari Blasi nel suo documentario ha specificato più volte che tra lei e questo ragazzo non ci sarebbe stato nulla. Non ci sarebbe stata una storia d'amore, ma nemmeno una liaison, ma nemmeno un qualcosa di pempere pempemposo, ma soltanto questo caffè dalla durata di 40 minuti a casa di lui e il suo unico sbaglio sarebbe stato quello di non averlo ammesso subito al marito. Cristiano, però, ha fatto un'intervista al messaggero, ok? L'ha fatta nel momento che sto registrando stamani, che ovviamente ha fatto il giro di tutto internet, ha fatto il giro di tutte le televisioni italiane e quindi ne andiamo a parlare insieme, andiamo a fare l'analisi logica e grammaticale di questa intervista perché lui fa delle dichiarazioni alquanto non discutibili, ma assolutissimamente diverse da quelle fatte all'epoca da Ilari Blasi. Perché lui dice e ci tiene a precisare che tra Cristiano e Ilari non ci sarebbe stato solo un caffè, ma un qualcosa di pempere pempemposo e anche ripetuto nel tempo. Ma andiamo per gradi. Ovviamente la prima domanda fatta dal giornalista è come mai hai deciso di parlare adesso e te perché ne sei stato zitto fino a ora, perché non sei stato zitto, perché non ti sei fatto fare i tuoi? Lui risponde che avrebbe voluto continuare a stare nell'anonimato o comunque nel gossip delle voci perché non c'era ancora fino a questo momento un qualcuno che dava per certo che era lui, ok? C'erano soltanto questi gossip nell'aria. Fatto sta che lui dice ci tengo molto alla mia privacy e non avrei voluto finire nuovamente in questo vortice mediatico. Sì, ci credo. Però, mio malgrado, sono stato tirato costantemente in ballo. Da ultimo con il documentario Ultima, che tutti conosciamo, e a breve anche con il libro di Ilari. Poco tempo fa è circolata su molti giornali la notizia che indicava il mio nome come testimone principale, citato da Francesco Totti, nella causa di separazione in corso tra loro. Alla luce di questo, ho deciso per una volta di parlare io, ok? Quindi lui non è che ha deciso, contrariamente a quanto magari possiamo aver pensato, di spiattellare parte della sua vita privata per sputtane Ilari Blasi, soltanto perché tirato in causa dai vari giornali come papabile, possibile, presunto amante di Ilari. Ma semplicemente perché, per via di Francesco Totti, è stato citato nella causa di Totti con la Blasi per quanto riguarda la loro separazione. E quindi, siccome il suo nome stava iniziando a ricircolare nuovamente, ha detto sapete cosa? Parlo io e dico la mia verità, così non ci sono fraintendimenti. Arriva quindi poi il racconto di come avrebbe e quando avrebbe conosciuto Ilari Blasi. Lui dice che si sono conosciuti alla fine del 2020 attraverso i social, in quanto le aveva commentato un post. E poi, parlando parlando, si erano dati appuntamento a una mostra che si chiama, ve la leggo, Mostra di Banksy, che in quel periodo facevano in centro a Roma. Lui poi racconta che ovviamente è stato lui il primo a iniziare una conversazione e che in quel periodo, quando poi hanno iniziato anche ad incontrarsi, ovviamente avevano timore che uscissero magari delle foto che li riguardavano insieme, anche perché la Blasi stava ancora ufficialmente con Totti e non erano ancora uscite le fotografie allo stadio, quelle famosissime, di Totti con Noemi. Quindi diciamo che era la calma prima della tempesta, perché ancora nessuno di noi sapeva di queste corna, diciamo così. A questo punto la domanda viene, è d'obbligo, ok? Dove vi incontravate? E lui dice, beh, ovviamente ci incontravamo a casa mia, e questo al riscontro anche nel documentario di Ilari Blasi, perché anche Ilari disse che per il caffè lei e l'amica, la sua amica parrucchiera, erano andate a casa sua per stare lontano dai riflettori e per non avere occhi indiscreti che potessero magari pensare cose un po' piccantelle. Però ci dà anche un altro dettaglio. È capitato qualche volta di vederci in negozio da Alessia. Alessia appunto è l'amica parrucchiera di Ilari Blasi, complice, ok? Perché nel documentario, non so se ve lo ricordate, ma nel caso ve lo ricordo io, Ilari Blasi aveva detto che Francesco Totti, durante una scena, aveva chiamato prima Alessia in disparte e poi solo dopo anche Ilari chiedendo ad entrambe se conoscessero o meno questo ragazzo del caffè. Quindi questa Alessia non solo era una grande amica di Ilari e non solo ha avuto tanto spazio anche nel documentario di Ilari, ma sarebbe anche quella che avrebbe aiutato Ilari e Cristiano ad incontrarsi un po' così, senza farsi sgamare. Ma veniamo a noi perché poi ovviamente il messaggero gli domanda ma ok, bello tutto, ci piace, va bene, ma quando sarebbe finita la vostra relazione? E alla parola relazione Cristiano diciamo che indietreggia un po' perché dice non si trattava di una relazione, la parola relazione ingigantisce un po' tutta la nostra conoscenza perché alla fine noi non ci siamo frequentati. Diciamo che ci vedevamo per fare bam bam! Insomma, raga, erano amici di letto, ok? Si vedevano per fare quella roba, non è che chiacchieravano molto i due, ma dice anche Cristiano che il rapporto tra virgolette tra lui e Ilari sarebbe iniziato ad incrinarsi quando lui ha rifiutato un invito di lei per raggiungerla a New York. Siamo rimasti comunque sempre in buoni rapporti, dice, almeno fino all'uscita del suo documentario. Mi aspettavo che mi avvisasse, visto che ha parlato di me anche se indirettamente. Tutti però hanno capito il riferimento a me e hanno cominciato a contattarmi tanti giornalisti. Alcuni sono addirittura venuti sotto casa. Insomma, vabbè, poverino. La sua vita era stata comunque, diciamo, un po' compromessa, no? Per via del documentario, anche se nessuno aveva fatto il suo nome. Sapevamo comunque che lui era il papabile. E però la battuta d'arresto della loro, sempre tra virgolette, relazione sarebbe arrivata in quanto, ovviamente, i rapporti tra i due diventavano sempre più sporadici e poi a un certo punto lui ha iniziato a frequentare una ragazza e poi Ilari ha iniziato a frequentare il suo ragazzo di ora, Bastian, quello tedesco, insomma, che ci racconta tra l'altro lei ha conosciuto a New York lo stesso viaggio in cui lei aveva invitato Cristiano Iovino a raggiungerla. Quindi guardate un po' il caso. Ok, non vieni te, ho conosciuto un'altra e ora ho la storia con lui. L'intervista finisce con, ovviamente, il giornalista che dice aspetta un attimo, o bello, tutto carino, super gossiposo, quello che ci hai raccontato, ma tutto quello che hai detto è dimostrabile in qualche modo oppure sono solo millanterie perché vuoi un po' di popolarità e vuoi che si parli di te. Lui finisce dicendo spero che non ce ne sia bisogno, ma nel caso tutto ciò che ho detto è riscontrabile. Ok? Allora, raghi, è innegabilissimo che con l'uscita di questa intervista è successo un pandemonio, ok? Perché fino a questo momento tutti noi eravamo sul carro, no? Della vincitrice Ilari Blasi perché credevamo a lei, credevamo alle sue parole che aveva detto anche piangendo nel suo documentario. Vi ricordo che Ilari Blasi ha finito il suo Unica dicendo a questo punto a sapere tutto quello che era successo da parte di mio marito, altro che caffè sarei andata a questo punto anche oltre. Dall'altra parte, però, adesso c'è il presunto amante con la sua unica verità, quanto è bello dire unica, che dice tutto il contrario. Di quello che ha raccontato Ilari. Tra l'altre cose, parte 2, è anche arrabbiato con Ilari perché si aspettava almeno una chiamata di Ilari che gli dicesse Amo, guarda, sto parlando anche indirettamente di te nel documentario che uscirà, però io dico vabbè, poteva essere una carineria dirtelo, ma non era obbligata anche perché il tuo nome lei non l'ha mai fatto. Lei parla di un ragazzo, ok? non dice niente di che, non dice nulla che riporti direttamente alla tua persona. Sono poi giornalisti che hanno un po' indagato e hanno capito che eri te. Ma, ragazzi, ragazze e ragazzo, in tutto questo io penso che Francesco Totti stia un po', diciamo, sogghignando sotto i baffi anche perché si dice che sarebbe lui uno dei superospiti di questo Sanremo che ci sarà a inizio febbraio, parleremo anche di Sanremo, non vi preoccupate, ci sono grandi cose in mente, tranquilli, e l'uscita della notizia di Francesco Totti, superospite a Sanremo 2024, sarebbe arrivata insieme alla notizia dell'uscita del libro di Ilari Vlasi che uscirebbe il 30 gennaio in tutte le librerie, in cui si dice che dentro questo libro, oltre alla storia, no, che abbiamo un po' già saputo, ci sarebbe all'interno anche un'altra grandissima bomba che Ilari Vlasi non avrebbe ancora sganciato. Quindi capite che l'hype per questo libro è alle stelle, almeno per quanto mi riguarda, perché io sono curiosissimo di sapere se veramente ci sarà questo nuovo super gossip oppure no, e soprattutto sono anche curiosissimo di sapere se l'ospitata di Francesco Totti a Sanremo si rivelasse vera oppure no, anche perché nel caso in cui fosse vera, non penso che Amadeus gli faccia le domande riguardanti il suo ex matrimonio. Boh, ci sarà comunque, secondo me, un veto di domande da non poter fare. Quindi probabilmente l'ospitata di Francesco Totti è tutto fumo e niente arrosto, anche perché vi ricordo che lui era stato contattato secondo voci, ovviamente, di gossip, di corridoio, anche lui era stato contattato dai servizi streaming per fare una sua versione del documentario. Lui avrebbe anche accettato ma richiedeva più di 3 milioni di euro e a questo punto gli avrebbero risposto ok, no, mi disp. Ma, ragazzi, qui stiamo andando un attimo fuori tema perché il tema principale dello Spinning City oggi è ma questo ragazzo del caffè ha fatto pem pem o no con Hilary Blasi? Lui, secondo lui e le sue parole in questa intervista del messaggero dice di sì ma anche più volte anche se non era una relazione. Ma Hilary Blasi cosa ne pensa? Cosa dice? Avrà risposto si sarà in caffè? È stata raggiunta anche lei dai giornalisti io l'ho letta sul Corriere quindi vi riporto quello che ha detto il Corriere e al Corriere avrebbe risposto che la sua verità resta quella che ha raccontato nel documentario e quella che racconterà nel libro ok? Non avevo dubbi che lei ricesse una cosa del genere anche perché ha fatto crescere indirettamente l'hype per il suo libro che è in uscita che sicuramente venderà più di questo raghi facciamo una piccola marchetta quando meno te lo aspetti è il mio primo romanzo è uscito solo su Amazon adesso è a prezzo speciale di 12,99 euro mi raccomando compratelo raga perché non potete far floppare questo fantastico libro che vi ricordo ho scritto io io l'ho scritto io veramente ed è un romanzo storia d'amore ovviamente LGBTQ plus tra un ragazzo Christian che è questo qua appena di 18enne e quest'altro ragazzo Edoardo di 10 anni più grande però non si tratta solo di una prima storia d'amore gay ma c'è anche tutto il contesto sociale la famiglia gli amici gelosi litigi varie cose che promettono super colpi di scena andatelo ad acquistare il link qua sotto nell'info box mi raccomando aiutatemi in qualche modo perché io mi sto sdando di lavoro per stare in vostra compagnia se mi potete aiutare il libro mio lo trovate su Amazon comunque torniamo a noi raga marchetta finita dovrò mettere a dv anche se io non mi sono pagato per fare la pubblicità del mio libro non lo so fatemelo sapere nel caso la metto fatto sta raghi questo è quello che è successo questo è il gossip della settimana voi a chi credete credete ancora di Larry Blasi che continua a dire e continuerà forse nel libro a dire che c'è stato soltanto un caffè tra lei e il fantomatico ragazzo del caffè o siete adesso dalla parte del ragazzo del caffè di cui adesso sappiamo per certo il nome Cristiano Giovino che dice che comunque c'è stata una liaison tra i due negando praticamente tutto quello che ha detto Ilari non lo so raga anch'io all'epoca non credevo molto ad un caffè di 40 minuti di nascosto fatto in casa di uno dei due anche perché in 40 minuti si può fare molte cose però l'ultima parola ovviamente io la lascio a voi scrivetemi qua sotto tramite commento se guardate il video su youtube cosa ne pensate se invece state ascoltando il podcast su spotify ho visto che potete commentare anche lì fatemi sapere tutte le vostre impressioni da che parte state fatemi sapere anche quanto siete in hype per il mio video sul libro di Ilari Blasi appena uscirà io lo prenderò lo leggerò il prima possibile e arriverà anche quell'analisi logica e grammaticale mi raccomando mettetevi piaccio a questo video se vi è piaciuto seguitemi ovunque raga perché gli obiettivi di questo 2024 possono essere raggiungibili ma mi serve il vostro aiuto quindi iscrivetevi 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 per oggi è tutto forse ci vediamo domani con un nuovissimo video ciao wow Grazie a tutti